No, no, Napoli In realtà, esatto, dovremmo essere ufficialmente già live Adesso vediamo un pochino se parte tutto quanto Io non ci vedo Benvenuti, non ci vedi ancora No, no, ci vedo, ci vedo, ci vedo Ci siamo, ci siamo Benvenuti a tutti alla quarta puntata di live Quindi Road to Mobile World Congress La strada verso il Mobile World Congress Sopra di me, Antonio Monaco Sopra Antonio Monaco, Gabriele Restivo Dall'ennesima casa in giro per Milano E non voglio sapere a quale gonna appartiene Codesta di Mora Donne, solo donne Esatto, solo donne, sono donne Gabriele per contratto può prendere casa E essere ospitato solo da un pubblico femminile Non c'è alternativa, non c'è scianto Gabriele che viene da un tour de force Di quante conferenze oggi ti sei sparato? Mamma mia ragazzi, sono tre Sono tre di cui due focalizzate sul 5G Sono interessantissime per carità Però io sono arrivato da dieci minuti a casa Quindi scome ho accumulato tutte queste informazioni sul 5G Ora vi farò una Una capatanta Una capatanta su 5G Perfetto, perfetto Per 35 minuti parlo Benissimo, ma tra l'altro con tutte le notizie sotto embargo Oppure si può dire qualcosa? No, no, si può dire Non ho firmato nulla Ci stavo pensando mentre ero in mezzo Posso dire sera? Però non ho firmato effettivamente nulla Quindi ora mi vado ad aprire il mio PDF E vado leggendo Ah, perfetto Quindi da domani HDBlogger sarà chiuso E avresti voi manette Quindi vabbè È stato bello Ma non importa Comunque va bene così Ma tra l'altro Aperta parentesi su discorso embargo Perché magari noi lo abbiamo prescontato Ma i nostri lettori non lo sanno Per embargo NDA E si intende un accordo con il partner Il produttore, il brand, eccetera In cui noi o chiunque Non divulga certe informazioni Prima di una determinata data Cosa succede? Che il 99% di questi NDA, embargo, eccetera Sono firmati Ma non c'è nessuna penale Nessun Cioè, non c'è nessun Nulla che Ci si può prendere del monello Dai, monelli Cioè, esatto Al massimo ti fanno una ramanzina Ma non è che Non si fa Ti levano Diciamo Il suolo da sotto i piedi Quindi alla fine Come vedete A livello internazionale Molto spesso Gli embarghi Vengono rotti Sempre prima Di qualsiasi Di presentazione ufficiale Chiusa Noi li abbiamo Noi li abbiamo sempre rispettati Infatti a livello internazionale Ho detto Noi siamo sempre stati bravi Forse è capitato Una volta Che sbagliai La programmazione di un pezzo Tipo un'ora prima Perché Era tipo Mezzanotte Che era le 12 am Cioè, sbagliai Non mi ricordo Insomma Mi pare che una volta Andò online un pezzo Per qualche minuto Prima Un'oretta prima Qualche anno fa Ma vabbè Insomma Capita ragazzi Capita Capita Comunque Prima di cominciamo Prima di cominciamo Tutti quelli che sono commessi Devono mettere Devono mettere Vedere Un pezzo Non mi è venuto Esatto Esatto Facciamo come il bimbo Mio È importante Spieghiamo anche Che è importante L'algoritmo Vai Che è il resto di Adelb L'algoritmo È in realtà Un feedback diretto Per noi Perché questi live Sono diretti Per il Mobile World Congress Quindi si parla Fondamentalmente di quello Quello che succederà Quello che sta succedendo Però noi abbiamo In programma Di mantenere i live Con tematiche differenti Magari non saremo tre Non saremo quattro Sarà uno soltanto Ci sarà Come dire Una discussione Su un tema particolare Un approfondimento Però sarà fatto sempre live Quindi noi vogliamo capire Se effettivamente Questo tipo di appuntamento Vi piace Esatto Mettete il pollice in su Altrimenti mettete tutti i pollici in giù Non lo fate No 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 Mettete il pollice in su Mettete il pollice in su Dai E direi che Tra l'altro Adesso proprio In grafica Sta andando Il simbolo Che ha tenuto Bancom In questo pomeriggio A livello internazionale Diciamo E' notizia uscita In sordina ieri Ma che ha avuto Un eco internazionale Praticamente Negli ultimi 4-5 ore E in pratica Tutti gli utenti Apple A questo punto Sono fuori dal live Perché probabilmente Gli è crashato Lo smartphone O il computer Visto che Questo simbolo Che state vedendo Pare O comunque È confermato Che che pare Mandare in crash Le applicazioni Di messaggistica E non solo Di iPhone Ma di tutta una serie Di prodotti Apple È un problema Molto grave Nel senso Molto più grave Di quanto È arrivato Toglio Non si può far vedere È un'altra È una cosa Che gli ho mandato io Stai parlando Stai parlando di prodotti Apple E io Per la prima volta Ho un iPhone All right No Ho visto la confezione nera Per poco Per poco Ma ce l'avrai Per poco Con la custodia Con la custodia Gliel'ho mandato Bravo Lo sei impanicato Sì no Esatto Esatto Pensavi E quindi insomma Questo simbolo Che è un simbolo Del dialetto Della lingua Telegu Che sarebbe La seconda lingua Parlata in India Con 70 milioni Di persone Che la parlano In realtà È un simbolo Quindi Vabbè Però Io In tutto questo Diciamo Diciamo una cosa Allora certo È una Una criticità Chiamiamo un bug Però Diciamo che in tutto questo Il polvedone Che si sta alzando È più Per Per il divertimento Nel cominciare A causare Piuttosto che Perché Ci userebbe mai Sto carattere Se non Certo Assolutamente Il bello È quello Che comunque È una cosa divertente Tra virgolette Però Nel divertimento È veramente tragica Perché comunque Come vedete Adesso Il video Che pure Qualche anno fa Se ricordi C'era la stringa Che pure Mandava in cash Video string City web C'erano Ci sono stati 4-5 casi Di roba Ovviamente Astrusa Stranissima Che però Faceva Crashare L'applicazione In questo caso Non solo Fa crashare Il programma Fa ricaricare La springboard Springboard Come si chiama E Le applicazioni Poi non si avvia più E tra l'altro Alcuni iPhone Vanno addirittura In boot loop Quindi Reset Cioè Insomma È un problema Piuttosto grave Per tutti I firmware Non beta Ok Quindi insomma Sta avendo Solo un 10.3 beta Già Non c'è più Visionante internazionale Per questo E tra l'altro Nei commenti Già qualcuno Ha tirato Fermi tu Fermi tu Salvatore Vestita Ci chiede Su youtube Qualcosa Su blackberry Premi a lui Che ci fa una domanda Del genere Ah Blackberry Blackberry Non ce lo duro Vai Tu che sei un fan Blackberry Antonio Vai Gabriele l'ha lanciata No che diciamo Blackberry Che comunque Allora No Blackberry L'ultimo che ho usato Che era il Come si chiama Il K1 A me non è dispiaciuto Cioè Era un telefono Che Poteva essere Utilizzato Anche abbastanza Con soddisfazione Però ovviamente Tanto tempo fa Mavamo Utilizzare la tastiera fisica La Qrt Veramente era Bellissimo Invece adesso Ovviamente Innanzitutto Si è raggiunto Un livello Di Qualità Di digitazione Sugli schermi attuali Che praticamente Adesso Non è più paragonabile A quella che ti può dare Comunque Una tastiera fisica Che Utilizzandola Risulta Non è più come una volta Cioè Si è perso Quella Una volta Eravamo abituati A lavorare Quindi dovevamo Premere con forza Invece adesso Anche questo Premere con forza Ti dà un feed Piacevole Però Devo dire Che la tastiera Hardware Credo che sia Arrivata al capolinea È arrivata al capolinea Anche secondo me Ma non tanto Perché non sia comoda Semplicemente perché Le tastiere e i software Sono diventate Talmente comode Ma soprattutto C'è una caratteristica Che Con Diciamo Gli ultimi anni Con i telefoni Sempre più grandi Rispondo a qualcuno E mi ha detto Cosa sto usando Al posto di iPhone X Ci siamo scambiati Antonio Nototto Io mi sono preso OnePlus 5T rosso Che la tastiera Ci ha un inserimento Continuo E con queste padelle Quando sei Io col cane Cioè il bimbo Per la mano Eccetera Cioè con una mano sola Fare La scrittura dei messaggi In questo modo È comodissimo Comodissimo Esatto Poi Addio tastiere Insomma fisiche Ma la cosa Di stare allerta Per gli smartphone Huawei e ZTE Allora È una notizia uscita oggi Proprio Diciamo A metà giornata Più o meno Insomma comunque Secondo L'intelligence USA Gli smartphone Huawei e ZTE Sarebbero Spioni O comunque sia Diciamo Possono dare dei problemi A livello di sicurezza Allora Mi sembra un po' Una trampata Detta molto Molto alla trampa All'americana Diciamo che I telefoni Da cui stare in guardia A livello cinese Sono ben altri Sono tutti quelli Ora non voglio generalizzare Come dicendo Ulephone Elephone Qbot Eccetera eccetera Perché Non conosco la specificità Di ognuno Però sono tantissimi prodotti cinesi Che hanno installato Delle backdoor Dei software Che comunque Dialogano con dei server Di Alibaba Piuttosto che Server asiatici E che condividono Delle informazioni Più o meno sensibili Con Con sconosciuti Poi di fatto Perché non possiamo Sapere chi sono Quindi Io starei Abbastanza tranquillo Sul discorso ZTE E soprattutto Huawei Nel senso Tra l'altro poi Dimmi Vai vai Cioè su questi brand Qua Escludo fortemente Che ci sia davvero Qualcosa di importante Dietro Poi È chiaro che Fino a che non c'è una prova Magari Tra due settimane C'è fuori L'intelligence Usa Che tira fuori Una lista Di cose effettive Al momento Sono solo Diciamo Illazioni Chiamiamole così Non ci sono prove A supporto Di questa Tesi di spianaggio Gli Stati Uniti Dove sappiamo Ci sono Alcuni principali Produttori Tipo Apple C'è questo sorta Di protezionismo Hanno sempre puntato Huawei E la cosa assurda Che suona stupida A questo punto Che parlano Di Huawei ZTE E quando Huawei Era bannata Nel territorio Statunitense Honor ha cominciato A vendere Quindi Dimmi Dimmi dove sta La differenza Se poi I smartphone Sono esattamente Gli stessi Il stesso hardware Il stesso quartier generale Il stesso software Sono stupidaggini O comunque Fino a prova contraria È difficile Che poi Insomma Siano soltanto Loro due Compresi così E non voglio E visto che parliamo Di Huawei ZTE A questo punto Spariamo tutto Cioè Vai Comincia tu con ZTE Gabri Con Huawei Vai Possiamo tranquillamente Dire ufficialmente Cosa succederà La settimana prossima Lo possiamo dire Cioè Di ZTE Si è bloccato Lo puoi dire Lo puoi dire Perché è una notizia Presenterà Il 22 C'è un evento In programma Mi sembra C'è un evento In cui verrà presentato Il Luxon Luxon Che noi abbiamo già visto Al Las Vegas Esatto Il telefonino Che si apre Ripiegabile Ripiegabile Sarò presente io Copriremo un evento Quindi vi racconteremo Questa storia Vedremo come fa E il 22 Vi consiglio di stare Su HDblog Vabbè Diciamo così Via Il 22 Su HDblog Esatto Ovviamente Per l'Axon Per l'Axon Perché saremo Ci e insomma Vi faremo vedere Esatto Vabbè Io vorrei Vorrei cominciare No aspetta Fermo Stiamo parlando Di Huawei Huawei Mobile World Congress Allora Intanto Sì esatto Dietro ho aperto gli ombrelli Così non si vede il casino Ho visto che vi siete Accordi di questa cosa Fantastico E Sono ancora in pieno Trasloco Perché Purtroppo i mobili Mi arriveranno Tra due settimane Huawei Sono arrivate nuove informazioni Sul Mediapad M5 Quindi Che sarà presentato A Mobile World Congress Insieme Ai nuovi Matebook Ok Quindi Ci saranno Probabilmente Tre tablet Huawei Mediapad M5 8 10 10 Pro Con queste specifiche Che state vedendo adesso In grafica Ma non so Se ci saranno Due computer E un tablet O due tablet E un computer Quindi bisogna un attimino Comunque saranno Secondo me presentati Tre prodotti In totale Tre Quindi Però di questi Sicuramente ci sarà il Mediapad E però Ripeto Non so se poi Gli altri due Saranno due Matebook Quindi X o E Versioni successive Migliorate Non lo so O se ci sarà ancora Un altro Mediapad Magari in altre In altre dimensioni Con altre diagonali Ed un nuovo Comunque Un solo Matebook Non lo so Vedremo E Per scoprire Cosa ci sarà Cosa Diciamo Aspettarsi Dal Mobile World Congress 2018 Lato computer PC O comunque Insomma Piattaforma Non smartphone Il buon Riccardo Palombo Ci ha Ha già pubblicato Un bell'articolo Corredato dal video Che non mi parte In questo momento Vabbè Comunque In cui ci parla Di tutto quello Che ci si deve aspettare Da Intel ARM e AMD Al Mobile World Congress Quindi insomma Andate a vederlo Perché Perché sbaglio Quest'anno In Mobile World Congress Ci sarà Parecchio Parecchi computer Cioè Mi sembra Che questo Sia un po' La premessa Rispetto agli anni precedenti No? Assolutamente Sì Ci saranno Sarà Mobile World Congress Un po' meno mobile E un po' più Congress Si può dire Cioè Oltre agli smartphone Ci saranno Ci sarà Il 5G Auto Connesse Domotica Tablet Computer Accessori Diciamo Sarà un Mobile World Congress Più a 360 gradi Anche probabilmente Qualcosa Lato fotocamere E ricordiamo In quest'anno Tra l'altro Ci sarà anche il fotokina E per cui Sarà un anno Probabilmente Questo sarà Il 2018 Sarà l'anno Dell'ultimo biennue Con la più grande Quantità di annunci Rispetto all'anno scorso E all'anno precedente Insomma Quindi Un ottimo anno Beh In effetti si chiama Mobile Mobile World Congress Non è Smartphone World Congress Mobile Come saranno Mobile Anche Le piattaforme C Certo Cioè saranno Però dico in passato Gli anni precedenti Di computer Ne abbiamo visti Diciamo pochini Da E già Al CS Abbiamo visto Più computer Che smartphone CS Non è mai stato Chissà cosa Per smartphone Però Abbiamo visto Tantissimi computer Ne vedremo Ancora di più Al Mobile World Congress E qui Mi aggancio Perché Ho i miei appunti Di oggi Di stamattina Perché con Qualcomm Si è parlato Di questo Qualcomm Sarà protagonista Infatti Assolutamente Qualcomm è protagonista E soprattutto Non vuole Essere protagonista Soltanto Per gli smartphone Tra l'altro Oggi mi chiedevo Dove si è finita Mediatek Perché davvero Non li ho sentiti Vedo che Cioè per ora Tutto tace Qualcomm Si sta muovendo Benissimo Al di là Degli snapdragon 835 45 Che comunque Vedremo poi Nello specifico A mobile C'è proprio Questa rivoluzione 5G Che sta già Correndo E soprattutto La loro piattaforma Che va Finalmente Su PC Al mobile Li vedremo Al mobile Soprattutto Verranno Annunciati Anzi Non a mobile Segnatevi Sul calendario Il 21 Febbraio Ovvero Qualche giorno Prima Ok Mercoledì 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 Segnatevi Mercoledì Prossimo Sul calendario Perché ci saranno Una tonnellata Di annunci Ok Vi posso dire Anzi Ve li devo dire Perché questa è la cosa bella Lo posso dire Ho fatto una foto Perché non me l'hanno passata Per fortuna Ho fatto la foto Non ho la colonna sonora Ci sono davvero tantissime cose Allora Si tratta di Qualcomm Ma non solo Allora Qualcomm presenterà Un Non so se è processore In effetti In realtà non è processore Cioè Tipo Miss Italia Quando devono dire il nome Passano 20 minuti Ti fa un baffo Proprio Stop Ci sarà Il primo chip A 7 nanometri Con Samsung Realizzato con Samsung Quindi il 21 febbraio Si parlerà di questo Non so cosa sia Ah no Sarà il modem X24 Gigabit LTE Il modem X24 È fatto con È stato realizzato Con i chip A 7 nanometri Ma questa è una cosa Importantissima Perché fino ad adesso Non se ne era parlato Perché siamo fermi Lo ricordiamo Anche con Dragon 845 10 nanometri Con 7 nanometri Si arriva A uno step successivo Che probabilmente Potrebbe anche essere L'ultimo step Con questa tecnologia Perché oltre Già è stato detto Più volte È difficile Si parla di investimenti Da parte di Mi fare TSMC Su 5 nanometri Ma nel 2021 22 È difficile Comunque in realtà Poi Si cercheranno Altre tecnologie Perché con Questo tipo di approccio È un po' Complicato Altra cosa importante Il 21 febbraio Verranno Annunciate I prodotti Che un po' Già conosciamo È la disponibilità Di questi prodotti Sto parlando Dei pc Dei notebook Con snapdragon 835 Ti ricordi Come si chiama Nasus Nico Le hai visti tu Le hai visti tu Alla Le UI Ma comunque Il mercoledì Sapremo prezzi Disponibilità Che è una cosa Che Neanche noi sappiamo È l'envy Uno è l'envy Uno era l'envy Uno è l'envy E l'altro Mi pare sia Acer HP Acer E Lenovo Mi pare Questi sono i primi tre Che hanno già Dato la disponibilità Poi ci saranno Anche Ci sarà una piattaforma VR Con snapdragon 845 Ci sono tantissime cose Ci sarà un chip Per il wifi AX Con il nuovo standard AX Perché adesso siamo Adesso siamo con la C Poi c'è Il successivo La D Si parlerà adesso Dell'AX Insomma ci sono Tantissimi temi Che verranno Proprio dati Pre Mobile World Congress Questo probabilmente Verrà izzare Tutti Certo che Pensavo che Le scopole fanno bene No perché Qualcomm Qualche anno fa Aveva preso Delle belle scopole Con l'810 Cioè che veramente Era andato Male Veramente Aveva inguaiato Se stessa E tanti produttori Di top di gamma Poi Sugli errori Ha saputo Comunque Secondo me Proporsi Nuovamente Innanzitutto Con dei processori Affidabilissimi E non solo Perché Credo proprio Quando prima tu Gabri parlavi Del discorso Di Mediatek Di che fine Ha fatto Mediatek Mediatek Secondo me Sta pagando Anche Il fatto Che Qualcomm È diventata Molto aggressiva Su quella Che era la fascia Più bassa Del mercato Dove lì I produttori cinesi Andavano solitamente A mettere il Mediatek Per risparmiare Queste cose Lì Qualcomm È andata A presidiare Anche quella fascia Di prezzo Tant'è Che molti Di quei Cinesoni Fra virgolette Che una volta Uscivano con un Mediatek Oggi stanno Con uno snapdragon Quindi si è andata Fetta Che era quella Che mangiava Un po' Mediatek E rispondo A una domanda Scusa Al volo Di Denis Che dice Vosa ne pensate Del 5G Mi allaccio A questa domanda Non rispondere Direttamente Ma dicendo Del 5G A livello commerciale Quindi Che noi Lo potremmo Comprare In pratica Negozio Se ne parla Nel 2020 2019 Fine Probabilmente Ci saranno Degli annunci Ma A livello Italiano Comprarlo In negozio Si parlerà Del 2020 Più o meno Gabri Che dicevi Anche 2019 Ci sarà qualcosa Perché In realtà In Italia Siamo avanti In Europa Sembra strano A dire Ma è così Siamo avanti I produttori I partner Come Qualcomm Come i produttori Diciamo Invece di Dispositivi Cercheranno Di rendere Disponibili Già Nel 2019 Dei dispositivi Perché Effettivamente Ci saranno Delle reti Che permetteranno Di sfruttarlo Cioè Siamo un po' In vantaggio Siamo in anticipo È davvero Atifico Ma è così Nick Ti ho mandato Un mail Processori Che dicevi Ah no scusami No no Perché prima Mi sembra che volevi dire Qualcosa sui processori Sul discorso Che stiamo facendo Nick Apri una mail Ti ho mandato un pdf Vai a pagina 9 E là Ok Tutto online Vado a pagina 9 No pagina 10 Scusa Pagina 10 Del pdf Aspetta Lo posso far vedere Tutto il pdf Ma credo di sì Cioè Mi sa di sì Io Credo No no Pagina 9 P10 Sicuro Non guardate Non guardate Pagina 15 Copritevi gli occhi Vai Copritevi gli occhi Allora Vedete questi Grafici Sulla destra Assurdi Ok Pagina 10 Pagina 11 E pagina 12 Vi svelo una cosa Che io non sapevo E non ci crederete Cioè Antonio prima parlava Di Qualcomm Che ha avuto difficoltà Economiche Con Snapdragon 810 Ragazzi Ma quando mai Cioè Queste aziende Fanno soldi Con cose Che noi neanche Ci immaginiamo Pagina 10 Con questi grafici Fanno soldi Con i diagrammi di flusso Questo qui Pagina 10 E il brevetto Del keypad lock Cioè Il lock screen Dello smartphone Perché loro hanno fatto Io uso lo lock screen Basta che lo guardo Ok Perfetto Allora vai a pagina 11 Eccoci Quella successiva Questo Loro hanno il brevetto Dell'airplane mod Se tu hai uno smartphone Con l'airplane mod Paghi Certo Il brevetto Sì sì no È credibile Vai a pagina Sì ma Come si fa a brevettare La modalità aerea Si può fare Incredibile Loro l'hanno fatto Ci sono anche le date Guarda Sono pubblici Ma hai ragione Hai ragione Nel 98 Hanno brevettato Assisted GPS Quindi se hai uno smartphone Con il GPS assistito Cioè tutti Che sfruttano tutte le applicazioni GPS Paghi il brevetto Allora In realtà Ci hanno spiegato oggi Che Cioè Queste cose nascono Da Da ricerca Attenzione Non è che sono Le hanno trovate Sopportate No beh certo Loro pensate che Qualcomm ha investito Ma lo sono scritto Perché la cifra era incredibile Circa 49 miliardi Di dollari In ricerca e sviluppo Negli ultimi 15 anni Queste sono cose Che sono nate Dalla ricerca e sviluppo Con cui Che loro forniscono In un pacchetto completo A tutti Come suggerisce Alessio Si chiamano Royalty Non copyright Hai ragione Royalty Royalty Va bene Ma è interessante Guarda Io Ignoravo Anch'io Sta cosa qua Soprattutto L'airplane mode Non la sapevo E devo dire Che mi ha Scombussolato dentro Cioè Mi ha sorpreso Stanotte Non dormirai Stanotte dormirò Con il telefono Modalità Ricerca perere Segnale Poi dai Torniamo sul mobile Appuntamenti E robe varie Allora Si Tanti appuntamenti Allora Negli ultimi giorni È arrivata L'ufficializzazione Da parte di LG Del V30 2018 Che Un'ufficializzazione Che ha messo Più dubbi che altro Perché Nell'ufficializzazione Dicano Ci sarà L'intelligenza artificiale Nuova Che sfrutterà Meglio la fotocamera In particolar modo Ci sarà La nuova funzione Di Visual Core Ora mi sbaglio Con Vision AI Ecco scusate Mi sbaglio Con il pixel Vision AI Però dicono anche Nel stesso tempo Che arriverà Un aggiornamento Anche sull'altro V30 Quindi secondo me Il nuovo V30 Sarà identico Con 256 GB Forse Speriamo 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 Che abbia Una fotocamera Anteriore Migliore Tu Gabri Su V30 Me lo fai Me lo lasci Per almeno 3-4 settimane Oppure No No Lasciglielo tenere Se lo deve tenere Anche adesso Sono senza telefoni Non ho alternative In questo momento Mi si innamora Dell'iPhone Non posso fare i versacci Alzo l'altro dico Ti ho detto il mazzo Vediamo 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 i miei teletti Ecco Uno in meno Abbiamo Un Meizu Tipo Di 5 4 anni fa Un S7 Fantastico Un Honor 8 Pro Che sto aspettando Reo Ma non c'è verso di averlo Un Nubia Z11 Fantastico E un S7 Edge Quindi Diciamo tutti Ultimo grido Perché me li avete fregati Tutti Però c'ho veramente Un monte di power bank I power bank Vabbè Come se A proposito Vabbè Un po' di domande Oreos S7 Edge E Tra l'altro oggi ci sono stati problemi Su Oreos S8 Che è stato ritirato Sì è stato ritirato Diciamo Ieri è stato ritirato Però Di fatto comunque L'abbiamo scritto oggi Ma Anzi Però Oggi le motivazioni Che Non aggiungo nulla Ma insomma Leggevo un commento Adesso non mi ricordo Proprio a proposito Di questa cosa qui Che Che dicevano Questo è un monito A Samsung Ma tutti Tutti i produttori Che fanno Smartphone Con personalizzazione Dicono Ma se Diceva un lettore Che scriveva Ma se Samsung Diceva un vecchio saggio Sì perché poi comunque È una cosa giusta Cioè se Samsung Sta avendo Comunque Difficoltà Chiamiamole così Perché comunque Da quando è uscito Oreo Sono passati già un bel po' di mesi A portare Oreo Sull'S8 Che è il suo Top di gamma Su quelli che stanno Un attimino sotto Ma quando arriverà Cioè nel senso che Veramente Se tutte queste difficoltà Si incontrano Per portarle Cioè mesi Con il tempo Con questo lavoro Per portarle sui top C'è uno sconforto Per chi magari Ha dei modelli Un po' più vecchiotti Un po' di fasce inferiori Che dice Si sentono un po' Un po' in difficoltà Comunque Smartphone Samsung Sempre rimanendo in tema Samsung Ricordiamo un attimo Appunto sempre A Mobile World Congress A proposito di S9 Quando arriverà Quando verrà presentato S9 verrà presentato Il 25 di Di febbraio Che è una domenica Che è una domenica Alle ore 6 Alle ore 6 Esattamente Esattamente Qui ci sono un po' di Insomma sto facendo vedere Un po' di immagini Di S9 Ormai non c'è Un po' raggiunto Tra l'altro anche in una Tra l'altro anche in una location Non consueto Cioè lo farà direttamente Alla fiera Alla vecchia fiera di Montjuic Quindi Alla Alla lingua Della leina Maria Cristina Quindi vicino a casa nostra Per fortuna Allora rispondiamo A un po' di domande Su Sul sito Chiediamo Sì Chiediamo che L'agenda completa La discutiamo La settimana prossima Da Barcellona Esatto Venerdì sera Venerdì prossimo Ci sarà un live Con 12 persone Connesse contemporaneamente Sarà un cassino Incredibile Si capirà Si capirà nulla Mettiamo i sottotitoli Per capire Esatto E quindi faremo Faremo un recap lì Con l'agenda Soprattutto dei primi A giornata In mezzo Le prime tre giornate Che sono quelle Clu qui Ci sono tutti Eventi principali E adesso Si stanno Davvero ancora Definendo Ci sono ancora Le ultime chiamate Esatto Allora C'è Gabriele No Marco chiede Gabriele cosa sa Vixiomi in Italia Nulla di più Di quanto hai aggiunto Più o meno Diciamo Almeno Che si possa divulgare In maniera Realistica Perché comunque Vai Arriveranno Arriveranno Anche i portatili Hanno problemi Con le tastiere Questa è la dura Verità Cioè che Per commercializzare Un prodotto In Italia Allora In sezione Un portatile Italiano Cioè in Italia Deve avere La testere italiana E abbiamo Più tasti Noi italiani Con le accentate Vi dicendo Quindi Devono Conformare Il prodotto Al mercato italiano Passerà Secondo me Qualche mese Buono Sicuro Almeno Per i notebook Per il resto Probabilmente Nella prossima settimana Sapremo di più Ma prima Di Mobile World Congress Potrebbero arrivare Tanti altri prodotti Perché come vedete Stanno arrivando Un po' scaglioni È arrivato intanto Il Mi Mix 2 Io ho fatto Un video Per mostrare Diciamo Quello che c'è All'interno Del packaging Della confezione italiana Però Tanti altri prodotti Si parla addirittura Di una sessantina Di codici Quindi Una cinquantina Di prodotti sicuri Ecco Li avremo In offerta In questi giorni C'era proprio Il Redmi Note 5A Il Mi Mix 2 Il Mi A1 Attenzione Perché su Amazon Italia Su Amazon Italia C'è Lo store di Xiaomi E c'è lo store di Xiaomi Italia State attenti A questa cosa Per esempio Per il Mi Mix 2 Ci sono Infatti c'è Nel Mi A1 Che lo trovate A 450 Non lo trovate A 549 Che è il prezzo ufficiale Perché Xiaomi Italia Lo specifica Per fortuna Lo specifica Con Mettendo Italia Tra parentesi Così Sapete che Quella Ha effettivamente La garanzia italiana Una cosa però importante Ok Che sottolineo Noi lo inseriamo Perché è spedito Da Amazon E in una chat Che ho avuto Pochi giorni fa Con Amazon Ho proprio voluto Sincerarmi Di questa cosa Praticamente Tutti i prodotti Spediti Da Amazon Hanno la stessa Garanzia Amazon L'unica differenza È che Amazon Non può rimborsare Può sostituire Eventualmente Il prodotto No Scusate Di contrario Non può sostituire Il prodotto Può soltanto Rimborsare Perché Non essendo Prodotti Di Amazon Non possono essere Sostituiti Può essere Eventualmente Fatto rimborso O chiaramente Mandati in garanzia Eccetera Comunque Sarà una delle domande Che faremo A Xiaomi Italia Allora appena Li incontriamo Nuovamente Perché c'è ancora Questo duo Questo sdoppiamento Su Amazon Probabilmente Sparirà Il Xiaomi Generale Rimarrà soltanto Xiaomi Italia Lo spero Perché poi Non avrebbe davvero senso Esatto Lo chiederemo Informeremo Arriverà Un 18.9 Da 5.5 pollici O meno Vi piacerebbe Chiede Enrico Su Youtube Da 5.5 O inferiore Cioè ci piacerebbe Un 18.5 Noni In pratica Piccolino Sarebbe Una cosa interessante Beh Lato mio Sì Non vedo l'ora Anzi Perché comunque Benché Queste cose qua Che è un rappresentativo Dei 6 pollici 18.9 Siano in qualche modo Maneggevoli Perché sono stretti Però sono delle padelle Comunque Quindi Se Sony Facesse un bellissimo Z2 Compact 18.9 XZ2 Compact Con pochi Cornici Eh Potrebbe essere davvero Molto 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 Interessante E proprio Sui Sony Vai Ti lascio la palla Anto Sony Sony Fa della Conferenza stampa Come al solito Il lunedì Mattina Prestissimo Quindi Levataccia Per andare subito In fiera E Dovrebbero arrivare I successori Degli XZ1 Quindi si suppone XZ2 E 2 Pro Dovrebbe essere Il secondo Si spera Che sia Finalmente Anche Sony Faccia Entri a far parte Del mondo Dei 16.9 Dei 18.9 Perché ormai La tendenza è questa Poi Che piacciono meno Perché c'è Comunque chi si lamenta Chi dice Comunque Però secondo me Ormai la tendenza È fatta Ormai 18.9 Li vedremo Praticamente Dovunque Spero veramente Che Sony Innanzitutto Si parla di processori Snapdron 845 Quindi parliamo Veramente di top Di gamma Con 4 o 6 giga Di ram Ma quello che io spero Da Sony Che faccia finalmente Una fotocamera Che faccia veramente Una bella fotocamera Perché Sony Ricordiamolo Ancora una volta Produce Produce Tutti Esatto Produce sensori Per la maggior parte Dei produttori I migliori top di gamma Utilizzano sensori di Sony Ma Sony Quello che ancora Secondo me Non è riuscito a fare È fare un bel Un bel algoritmo Un bel codice Per la sua fotocamera In grado di Sfruttarli al meglio Comunque Speriamo veramente Perché Sony A me piace Sui sui modelli Storicamente Si inserisce Integra I sensori migliori Che poi gli altri Non hanno Assolutamente Ma già parlare Cioè Sony sta utilizzando Comunque quel sensore Che c'è anche Il Motion Eye Che c'è anche La possibilità Di fare lo slow motion A 960 frame al secondo Lo fa già da un anno Cioè Quest'anno Probabilmente Samsung Mi sembra Che si parli Tra i rumors Di una fotocamera Con slow motion Forse addirittura A 1000 frame al secondo Non lo so Vabbè Vedremo come Però Per dire C'è la ciccia Manca L'utilizzo buono C'è da dire Anche una cosa E oggi Fino al 19 febbraio Su ebay Potete acquistare I Sony E altri prodotti Al 10% di sconto E quindi tipo Xperia Z1 Compact A 377 Che potrebbe davvero Essere scelto Anche al posto Di un eventuale XZ2 Compact Perché comunque È uno Snapdragon 835 Che devo dire la verità L'XZ1 Mi è piaciuto Mi piace Perché Tanto Veramente Un bel prodotto Fila via Che è un piacere Tra l'altro Rispondo alla domanda Dei commenti Parlavano di Oreo Sui Motorola I Sony Sono Pochissimi Ad essere usciti Aggiornati A Oreo In Motorola Arriverà A Oreo A breve Il G5 Probabilmente Non ci avrà A Oreo Probabilmente Sarà sui G5 Plus Ora vedremo Sarebbe bello Insomma Avere delle informazioni Direttamente da Motorola Ma al momento Non ci sono Dettagli G5 Diciamo che È possibile Ci butteremo Un 51% Sì 49% Però Al momento Non ci sono Informazioni Abbastanza Attendibili Su sta cosa qua Motorola Che voglio Ricordarlo Quest'anno Non farà Conferenze Stampa Al Mobile World Congress Quindi lo possiamo Dire Anche se Manca l'agenda Ed è molto Strano Perché in realtà Motorola In questi giorni È al centro Di un 400 Mila rumors E Ampiamente Documentati Saranno Tutti Prodotti Nuovi Ci saranno Però Non da quello Che ho capito Quelle che sono Attualmente Le informazioni Manca una settimana Ormai Quindi Ti può dire Non ci sarà Un evento Di lancio Come c'è stato Praticamente A ogni occasione Esatto L'ho chiuso Col saldatore Gabby Se vuoi Sapere Anno Veramente C'è col saldatore Il contenuto È abbastanza Importante No aspetta Mi hai preso La scatola giusta Tra l'altro Antonio Ieri mi ha scritto Ho messo La cover Usala Lo sfascia Telefoni Sfascia Ma Veramente Sono arrivato Al livello Successivo Non trovo Il G6 Non so dove Sì Simone 303 Salve Mi chiedevo Se come laptop Che si ruotano A 360 gradi È meglio Il Pixelbook Quello di Google O l'XPS Da 15 pollici Stai facendo Una domanda Che solo io E Gabriele Alla quale possiamo rispondere Perché credo che siamo Gli unici due Anche Riccardo Gli ha visti Gabriele ormai Invelo a diruggere Per quel telefono Ora gli casca Di sicuro gli casca Anno Ah ma non è l'X Quando ho preso Un chilo È l'8 plus È un chilo Di 8 plus Rosa Adella Comunque Dicevo L'abbiamo vista Al Al CS Quindi Ti posso garantire Che Il Pixelbook È Meraviglioso Se vuoi Un portatile Portatile Non c'è Non c'è Pixelbook Se invece Vuoi un portatile Che non ha Alcuna limitazione Di utilizzo Nel senso che Puoi installarci Qualsiasi cosa C'è Windows È completo Eccetera Eccetera L'XPS 15 Diciamo Inconvertibile È veramente Molto 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 Bello Anche Riccardo Era molto indeciso Se vi facevi più L'XPS 13 Nuovo O Il Intanto Il carognone Vada Trolleggia Il nostro Ero estivo Quindi Io ti direi Per l'esperienza Mia personale Vai di XPS Che mi sono trovato Veramente benissimo E vabbè Ti piace questo iPhone 8 plus Io Io non ho parole Vada Tra l'altro Tu lo stai confrontando Con un telefono Che Oltre a essere Ottimizzatissimo A livello estetico Di cornici Appunto Con questo Con questo Confrontalo con questo Ma come No E' brutto E' brutto Questo è veramente brutto Questo è molto bello E' vero Questo è il Mate Il Mate 10 Pro C'è un design Che si va avanti Dal 2005 6 Non parlo Dal 2015 2015 2014 Io ho un'idea Ma forse è una cosa Già fatta e rifatta Ma siccome davvero Non ho mai Lo annunciamo Non ho mai utilizzato Un iPhone in vita mia Cioè questa è la prima volta Che forse lo tengo in mano Più di 5 secondi Potresti fare iPhone Dopo due mesi Il primo approccio Per me è Da iPhone A Edithorio Non lo so Un grande fratello Un grande fratello Quindi con Una telecamera Che mi riprende Io per una settimana Che lancio Lancio parolacce Cercando di fare cose Hai tempo fino Al 23 Dopo il Google Congress Ti prendi Tutta l'attrezzatura Che sai te Da 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 Povi E te la porti a casa E te lo farei Sarebbe un video continuo Di Bip 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 Così sarebbe Come faccio Bip No Però No 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 Lo vedresti benissimo Comunque Devi solo cambiare il paradigma Con cui ragiona Cioè iOS è App centrico Quindi Tu pensi una cosa E devi aprire Quell'applicazione Per farla Cioè Non è che Non è contenuto centrico Come Android In cui hai il contenuto E poi decidi Dove mandarlo iOS Pensa il contenuto Dici dove devo mandarlo Su Instagram Allora prendi Instagram E Vai a cuccare il contenuto Lo voglio fare Per Conoscenza personale Cioè Devo sapere Devo sapere cosa c'è Antonio è l'ultimo Valuardo Per Apple Massimiliano Emilio Squillante Senti Va che no Non ti accetto Va bene Comunque Allora C'è Emanuele Saccone Che ti fa una domanda Antonio Dimmi dimmi Emanuele Basta che Volevo chiedere Se il prossimo OnePlus 6 Avrà il notch O no E Di che cosa si parla Insomma OnePlus 6 No non credo Non credo Non credo Non credo Che era La notch O il notch Quello che sia Ma Suppongo Che invece Avrà il sensore Per le impronte Sotto al display Come vivo Quindi Perché sappiamo Che c'è molta Però avrà sempre Il sistema di riconoscimento Che cosa? No no niente E anche Suppongo Che abbia anche Comunque un sistema Di riconoscimento Del volto Come c'è attualmente Già anche sul 5T Che funziona anche Allora Una cosa È velocissimo Spezza una lancia A favore di suo telefono Il rinnovamento In volto Di OnePlus 5T Non è un rinnovamento Sicuro Cioè Non può essere usato Per certificare I pagamenti Inserire le password Eccetera Ma È di una Velocità Ora sto cercando Di una Guardate Ora è bloccato È di una velocità Sconvolgente Guarda che lo faccio Anche nella decensione È incredibile È Cioè È veramente incredibile Infatti È il primo telefono Con sensore posteriore Che io odio Personalmente Perché mi trovo bene Ancora davanti Che Col quale non litigo Con lo sblocco Però Però Aspetta un attimo Sia questi Sia queste Che i lettori Di impronte Perché sono così Veloci Cioè Non è che I punti di ancoraggio I punti Che vanno A decifrare Per sbloccare Invece di essere 10 Magari sono 2 No ma certo Assolutamente No ma Assolutamente Ma non è nemmeno Tridimensionale Non è nemmeno Tridimensionale Quindi A voglia No no Infatti non è sicuro Però Nell'utilizzo Cioè comunque Se lo prendi te in mano Non me lo sblocchi Ok Di fatto Non me lo sblocchi I lettori L'impronte Sono precisissimi Ma Diciamo che Il Face ID Come comunque Apple ha ampiamente dimostrato È molto più preciso È molto più affidabile Scusa Del sensore di impronte Perché Rileva un numero di informazioni Direttamente superiore All'impronte digitale Siamo d'accordo Io Ricordo Quando ho fatto la recensione L'S8 Che è stato il primo Con L'S8 L'S8 Allo sblocco Con la retina Sì All'inconoscimento Dell'iride Sì L'S8 La primissima versione L'S8 Sì S8 Sì Certo No è stato il Note No perché mi ricordo Che il primo È stato il Note 7 Che non si è visto Praticamente Che è esploso Di conoscimento Esplosivo Ricordo che Con l'S8 Infatti lo dissi Nella recensione Funzionava Così Ma era Perché non La primissima Una primissima versione Poi è migliorata Nel tempo È migliorata Tanto Nelle ultime Delizze Di software Dell'S8 Il riconoscimento Dell'iride È migliorato Molto 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 E sicuramente Lo vedremo Sull'S9 In qualche altro Non so Se magari Con un sistema Un po' più accurato Che riconosca Anche il volto Un po' come fa Alberto Manuguerra Dice Ho un gemello Riesco a sbloccare Il suo iPhone X Senza alcun problema Ma fa parte Di Cioè È una cosa Che Apple Ha detto Addirittura In fase Di presentazione Cioè Quando fu Fatto Durante il keynote Che vedemmo A cui assistiamo Ma no Ma fu detto Proprio Che I limiti Del Face ID Sono quelli Parlò infatti Non funziona Se avete Il gemello Cattivo Cioè Sono dei casi In cui È preferibile No Deve essere utilizzato Il codice Invece Del riconoscimento Del volto Parliamo ovviamente Di casi Però E vorrei anche Dire un'altra cosa Ti ricordi che uscì Qualche tempo fa Il caso Di un iPhone Che si sbloccava Tramite il fratellino Piccolo Ecco In quel caso lì Sono abbastanza convinto Che Il Face ID Ha un vantaggio Cioè Impara Man mano che lo usi Quindi cosa vuol dire Che Se tu lo prendi Sai il pin Ok E inizi a sbloccare A farti vedere Poi metti il pin Ti fai vedere E non ti riconosce Metti il pin Cioè lo fai per cento volte Dove lui Ha associato Che tu hai messo Il pin per cento volte A una faccia Che è diversa Per lui quella faccia Diventa attendibile In pratica Anche se non è registro Per metterlo cento volte Dovresti aspettare Perché ogni Tone di esperimenti Vai avanti un'ora Poi 12 ore Esatto Però Secondo me Veramente L'optimum Per quanto riguarda Il sistema di sblocco Potrebbe essere L'insieme Di un riconoscimento Face ID Più un touch ID Sotto al display Lì proprio si raggiungerebbe Lo stato dell'arte Speriamo che qualcuno Ci chiedono in tanti Dove sono Riccardo Dove è Francesca Riccardo Stassuomo Tassiere Francesca di qua Ragazzi Semplicemente L'abbiamo fatto A terzetti Questi live Quindi ci siamo alternati Questa settimana Ci siamo noi La prossima Saremo Anche perché Banalmente Diciamo che Ognuno di noi Lavora dalle 8 di mattina Alle 8 di sera Più o meno Per cui adesso Tutti noi tre L'altra settimana Gli altri tre Stiamo facendo Un ulteriore Lavoro Quindi allunghiamo La giornata lavorativa Per cui Anche si può chiedere A tutti di essere Sempre disponibili E presenti Anche perché Poi ieri era San Valentino Oggi è San Fermino No Come si chiama C'è quello Degli omni Come si chiama Quello Dei singoli Com'è Il contro San Valentino Fermi tutti Guarda Antonio Monaco Che cavo di alimentazione Dell'iPhone È rotto Sei un barbone Sei un barbone Antonio Ma poi cos'hai mangiato Da che animale Da un caccio Quello rosicato San Faustino Grazie a Mario Perché non l'ho visto Tu hai Lo attacchi Esplode tutto Ed è un pentato Esatto Una scintilla Finisce sugli altri telefoni Prendolo tutti E vai Arrostivo Lo chiamiamo Gabriele Arrostivo Gabriele Arrostivo Dai Comunque Adesso voglio provare una cosa Vediamo se funziona Io non vedo Non funziona Peccato Io penso Di Gabriele Dell'articolo di Nicolò Sull'iPhone X È scompasso Vedo tutti questi Like su questo live Vedo troppi pochi like Questa cosa Non la capisco Gli ascoltatori Silenti No che ne pensi Ripeto Quella è Esattamente È una mia esperienza Che racconta Esattamente Cosa vuol dire Per me Chiaramente Mi hanno dovuto Passare Da Android A iPhone E quali sono Le rinunce O l'immediatezza Nella mia Nella formamenti Somma di Android A cui ho dovuto rinunciare Gabriele Non so se puoi rispondere Visto che non ha mai usato Un iPhone Ancora non puoi rispondere Ma potreste rispondere Magari Tra un mesetto Ecco Sì Fino adesso Ciao Ciao in tutte le lingue Non mi ha detto altro Non ha fatto altro Ti do una chicca Una piccola chicca Non lo puoi attivare Se non metti la sim Caro Proprio non lo puoi configurare Esatto E ti devi fare anche Un Apple ID Caro Esatto Benvenuto nel mondo dorato Di Apple Esatto Guarda Io la volevo dire Un po' più in francese Te l'hai detta Troppo fuori È un po' più un dito Io per esempio Spesso faccio Dei contenuti Me li devo inviare Sul computer Me li invio via bluetooth Questa cosa Telegram Telegram è la salvezza Di ogni Apple user I messaggi salvati In Telegram Nei miei messaggi salvati C'ho tipo Uppato di tutto Perché almeno Me li ritrovo sul computer Dove voglio Fantastico Telegram è la salvezza Del mondo Se poi fanno anche La moneta Bitcoin Di Telegram Fa la salvezza Dell'universo Anzi Controlliamo Hai fatto pensare Oggi sono stato il tuo giorno fuori Controllato Controllato Rispondiamo ad un altro Poi di domande Usate il Mate 10 Pro Sì Ogni tanto Ogni tanto sì Perché pure quello Non è Anzi Devo dire che Secondo me È il vero top Di gamma Di Huawei Dello scorso anno Quindi Dello scorso anno Esci Settimane fa Anche se te lo dicevo Il primo di gennaio Sì sì A me piace davvero A me piace davvero tantissimo Io È che Che se Dico che la voglio Usare C'hai il Mate 10 Pro Eh? C'hai il Mate 10 Pro? No ma dai Sei veramente Una buffina Poi si lamenta che C'è un manco di cavolo Sicchiato Tra l'altro Momento pubblicità Tra l'altro 539 euro Lo sconto ebay Ovviamente single sim Però insomma Prezzone 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 In questo momento Non ho avuto neanche il tempo Di spacchettare questo Che cos'è? È live Mi sa che è live C'è anche il live Ma Comunque Cambiamo un attimo discorso Parlereste sempre di smartphone Quindi cambiamo un attimo discorso Eh di che vuoi parlare? Da GoPro sta fallendo Simone Di Rocco GoPro sta fallendo Poi non voglio parlare Però Noi con questo Dovremmo andare Perché Esatto Nicolò ha anche Per il discorso Quest'anno Andiamo In Andiamo con Tre di queste Sony Alpha 6500 E tre di queste Con Un obiettivo 16-70 Che abbiamo utilizzato A Las Vegas E sono delle macchine particolari Sono Quello che interessa a noi Sono delle macchine Professionali Si possono utilizzare Davvero Professionisti Utilizzano Sia per riprese video Ma anche per foto Ma per riprese video Sono fantastiche Perché La macchina Fotografica Ovviamente La mirrorless È stabilizzata A 5 assi E quindi Offre davvero Una stabilizzazione Allucinante Cioè Nicolò Riesce a fare Una ripresa Anche perché L'ottica In realtà È stabilizzata Esatto Sia l'ottica Che la macchina Bravo È luminosissima Questa qua È un F4 Questo obiettivo Costa 800 euro Che non sono pochi Però per la fine È perfetta Perché Hai un minimo Di grand'angolo Quando lo utilizzi A 16 E hai la possibilità Di spingerti Un po' più avanti Quando arrivi a 70 In realtà Poi Il fattore Il fattore Full frame Sul formato È Sembra tipo Un 24 105 Quindi Hai la possibilità Di spingerti avanti E Purtroppo La batteria Le batterie Vengono consumate Molto rapidamente Questa è una cosa Che ho notato Rispetto Al passato La Canon M3 Che ho usato Fino adesso E me l'hanno confermata In tanti C'è bisogno Di tante batterie Non costano Non costano Molto Quindi comunque Non è un problema Portarsi 2-3 2-3 appresso Ma noi le abbiamo Giusto? Quelle di riserva Eh Devo dire una cosa Ah È un periodo Io sto cercando Di Diciamo Rinnovare il nostro Parco Fotocamere No? E Mi non ha Diciamo Uno spirito Di spendere Non riesco A trovare Una macchina Che Abbia Il maledettissimo Straffottutissimo Display Che ruota Che ruota In esterna Cioè Che ti ci puoi guardare La mia Quella che uso io Sì Ok La Canon 800D Ma L'autofocus Esatto L'autofocus Delle mirrorless Della Sony In particolare La stabilizzazione Cioè Quella macchina lì È una macchina Perfetta Per il nostro lavoro Ma Quella mancanza Dello schermo La rende Inacquistabile Maremma Però Però Nico Ti devo dire una cosa Che io ho fatto Diversi video In cui Mi sono semplicemente Messo davanti La fotocamera E io sapevo Che la 6500 Mi avrebbe messo a fuoco Non mi avrebbe mai perso E così è stato Cioè C'è questa Questa cosa a dire Ecco C'è una cosa importante Però Che mi ha ricordato Monica Ciao Monica La Collegio È un battery pack Effettivamente La Sony Eh Vedi Sì Alla porta Purtroppo È una micro usb Però io la ricarico Io la ricarico Sempre con il battery pack Ah Vedi Nick Metti il video di oggi Perché Voglio farvi vedere Di cosa stiamo parlando Cioè Io ho fatto il video Che è andato oggi Sui monitor Philips E a AOC E l'ho fatto Con un setup Da nulla Cioè Avevo questa fotocamera E un cavallettino E molti dei movimenti Che ho fatto Non tutti Alcuni l'ho fatti Con una testa fluida Piccolina Tra l'altro La testa fluida Che si può mettere Su un qualsiasi treppiede Di questi leggerissimi Piccolini E molti dei movimenti Li ho fatti a mano Cioè Li ho davvero fatto Dei movimenti a mano Che Se non Se non te lo dicessi Marei Con tre accorgi neanche No infatti Ma Cerchiamo di non abituarci troppo Cerchiamo di non abituarci troppo Alla fine che poi dopo Non dobbiamo più A farne a meno Anche perché Me la rendono Tutti Comunque Antonio Cosa ne pensi Dell'HomePod Inutile al momento? In Italia è inutile Perché non c'è Quindi Non è utilizzabile Ma guarda Allora Quello che bisogna dire Che Rispetto ad altri Smart Speaker Quello di Di Apple È più Focalizzato Sulla qualità Audio Cioè Ma è proprio Non dico che è una cosa Voluta Ma Apple Comunque Ha Dato molto Più Molta più cura Ha posto Molta più cura Nell'attenzione Nella qualità audio Piuttosto che Nelle capacità Smart Quindi rispetto Ad un Ad un Google Home Ad un Alex È più limitato In quello che fa Ma ha una qualità Audio Che proprio rispetto a questi Che ti ho citato È impareggiabile Quindi dal punto di vista Audio È più È uno speaker Con funzionalità Smart Quindi Chiamiamolo più così Che è uno smart speaker In sé Proprio Sarà interessante Magari Durante l'anno Fare un bel confronto Tra le casse Multirom Multirom Scusa Multirom Multirom E comunque gli speaker Tipo il Sonos Che ha provato Riccardo Recentemente Per capire se Effettivamente Su queste Target 300-400 euro La differenza Ci sia E sia tangibile Proprio quello Che sta dicendo Io ho visto La recensione Che ha fatto The Berge Dove proprio Ha messo A confronto Anche acusticamente Con Anche con Un centro di registrazione Ben tarato Che hanno fatto vedere Prima di iniziare Come E ha messo Proprio a confronto Alla qualità Audio Per far vedere La differenza E si nota Proprio una corposità Quando entra L'HomePod Rispetto Ad altri Anche a quello Grosso Di Google Adesso non mi ricordo Quello più grande Grande che c'era Che avevano Quello nuovo Che hanno presentato Che comunque Appunto Era molto più Corposo E infatti Fate smontare Riccardo L'HomePod E purtroppo Per smontarlo Va spaccato Quindi Meglio evitare Però Non c'è in Italia Quindi non ci poniamo Questo problema E dobbiamo aspettare Oppure Chi se lo compra Se lo compra fuori All'estero E se lo porta In Italia E lo usa in inglese iPhone 6 2 Arriva Non arriva Quando arriva Io credo Che Ti devo dicare Secondo me Per ora Non arriva Perché Sappiamo benissimo Ormai Come funziona Che Quando sta per arrivare Un nuovo prodotto Di qualunque produttore Arrivano fuori Un po' di rumor Ormai funziona così Sappiamo tutto Anche del Galaxy S9 Perché Perché già Si sa Tanto Ne abbiamo scritti Perché ormai funziona In questo modo qui Dell'E6 Non se ne sta parlando Quindi Non abbiamo riscontri Cioè Ce l'aspettiamo Perché Ok Un prodotto Che Apple Dice che ha funzionato Che comunque Ha raggiunto Gli obiettivi Che sperava Di ottenere Appunto Quello di avere Comunque Un telefono Compatto Per gli user Per gli utilizzatori Più classi Quelli che magari Amano più La praticità Che le dimensioni Grandi Del display Però ripeto Al momento Non se ne C'è solo La speranza Perché Secondo me Non sarebbe male Però magari Ha aggiornato Un po' Dal punto di vista Del design Cioè Non Cioè Seppur dovesse Attivare Spero che Non sia Un ulteriore 5 Un ulteriore S Col processore Migliorato E basta No Sare in qualcosa Di più figo Sì 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 Assolutamente Tra l'altro Ecco Una cosa importante Che mi Mi freme dire Come fa Giustamente Notari 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 Non si chiama Joker L'HomePod Va solo con Apple Music È una cosa Che No Ma ti vedo Sono limitazioni Ci sono tante limitazioni Sull'HomePod Cioè Veramente Potremmo parlarne Dire tutte le limitazioni Ma ti vedo L'HomePod Lo deve prendere Secondo me Prima Chi vuole Una buona Cassa audio Ma che poi Abbia delle funzionalità Smart Ma Non il contrario Quindi È limitato Questo Non lo si mette in dubbio Domanda secca Miglior medio gamma Ad oggi Nicolò Porca Miglior medio gamma Tra i 3-400 euro Quindi Mi fai Mi fai Diciamo Pensare Allora così Da Keto Ti direi Galaxy A8 Perché Ormai si trova A circa 380 euro Circa Considerando Guarda 383 Mi è uscito Ora Considerando Poi lo sconto Su ebay Magari Da venditore Affidabile Lo trovi ancora Ancora meno Tra l'altro Il dual sim Però Su quella fascia Di prezzo Ci sta arrivando Cioè tipo Anzi Su una fascia Ancora meno Perché sotto i 300 euro Se non hai Pretesi di batteria L'HTC Il fondamentoreo Non c'è Ancora Ancora 8.1 No Guarda È leggerissimo Veramente Una piuma Poi il blu è molto bellino Blu 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 A quanto si trova Il Huawei Il P10 A quanto Che fascia Di vado Non or 9 Più che il P10 No Non lascerei stare Non or 9 Lo trovo superiore Al P10 Sì 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 Che pare ormai E le tre fotocamere Che parrebbero Sai che però Ho avuto Un sentore Che probabilmente Non sarà Plus Ma Pro Quindi P20 E P20 Pro Eh allora guarda Se me lo dici così Guarda ma si fa Eh Se me lo dici così Guarda ma si fa E che cambia scusa Cioè Cambia l'indicizzazione Sì Non Plus Il secondo non Plus Ma sarà Probabilmente Pro Secondo me Secondo me dico No Gucci Se lo dico Secondo me è Pro Secondo me è Pro Va bene Secondo me è Pro Eh ma è roba decente Quindi È antecedente È successivo al Al mio video Esatto Successivo al video Ancora domande E poi ci sarà In light ma Sì In sordina Esatto Sì E comunque Ne faremo chiarezza Nei prossimi mesi Faremo delle guide In cui parleremo di tutto quanto Anche perché Ormai è difficile Non includere i vecchi Top di gamma Che scendono tanto di prezzo Cioè È davvero L'S8 Si trova L'S8 su hdblog Che ha segnato miglior prezzo 4,20 qualcosa Guarda un attimino Possibile 4,39 Chi l'ha tirato giù A questo prezzo Eh Questo mondo affari web Ogni tanto appare Su calc Su trova prezzi In realtà è affidabile Perché ho guardato Molti Sia la partita IVA Che c'è da Da più di 4 anni Mi pare addirittura 7 anni Forse 4,39 È eccezionale È eccezionale Devo essere sincero È Europa o Italia Vediamo un po' E' un tema Che approfondiremo Perché davvero Come dicevo I top Possono essere Degli ottimi acquisti I top dell'anno presente Possono essere Degli ottimi acquisti Non perché La classica risposta Quando ti dicono Proprio di trovare Un prodotto di fascia Più bassa Consigliare Un top Del primo anno Sì Anche perché È vero che non c'è Ormai Una differenza In termini di prestazioni Cioè In alcuni casi Non te ne accorgi Anche se poi Non so se avete visto La prova Del Mi Mix 2 Che ho fatto l'altro giorno Con Aggiornato Tra l'altro Neanche tantissimo Cioè Aggiornato Alla 9.2 Ma che è ancora Basato su Nougat Cioè La velocità E multitasking Era spaventosa Spaventosa Sì 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 Spaventosa Quindi comunque Queste differenze Io la vedo Ad esempio Il V30 è veloce Ma non è veloce Come il Note 8 Cioè Il Note 8 È una scheggia Per fare Tantissime operazioni Abbiamo aggiornato Ma ancora Non l'ho Non l'ho Riappurriuppata Però è aggiornata Domani sarà online La guida Dei migliori smartphone Nelle fasce di prezzo Quindi è esattamente La risposta Noi dobbiamo considerare Domani Verrà pubblicata E qui Trovate tutti Insomma Quelli che riteniamo I migliori E nella fascia 300 Nel quale Insomma Ho messo esattamente Questi qua Lorenzo Diana Una differenza Una differenza importante Rispetto ai mediogamma Che non scendono Tantissimi prezzi Cioè Vengono presentati Magari a 400 Poi Dopo un anno Arrivano a 300 Scendono i 100 euro E la si vede Nella fotocamera Questa è una delle cose Che il top di gamma Fa sempre la differenza Quindi anche un top di gamma Dell'anno precedente Prendete S7 S8 Ragazzi La fotocamera Era identica N'è cambiato nulla Era un'ottima fotocamera Quindi comunque Avere un S7 A un prezzo Sotto i 400 euro Rispetto Faccio un nome a caso Honor 9 Aspetta Questo mondo a fare Non so Ora Dopo quando riattacchiamo Controllo L'ha messo A 279 L'S7 Ora Vediamo Vado a controllare Un po' di cose Se l'hanno bucato I server Ma sarebbe È un prezzo Completamente Di 100 e passa euro Inferiore Al più basso Quindi vediamo L'S7 A 270 euro È fantastico Fatti ora È un ottimo smartphone Con un'ottima Anzi eccellente fotocamera Che Ripeto A qualità di prezzo Sovrasta Assolutamente Un top di gamma Un medio gamma Anche uscito Cinque minuti fa Perché poi Su medio gamma Io onestamente Non ho visto Nessun passo in avanti Per quanto riguarda Le fotocamere Migliorano Tutto il resto È vero Costano poco Migliori display Qua c'ho in mano Sono diversi C'ho per esempio L'Honor 9 Lite Cioè Design Fantastico Per 2,29 C'ho sognavamo Un telefono A 2,29 Con questo design Vi assicuro Questa colorazione Poi è veramente Fichissima Però Rimane che la fotocamera Non ha Nulla In più Rispetto Al T8 Lite 2017 Al Bennett S7 2,99 Quindi allora Abbiamo avuto Un cao Tipo Un crollo Qualche Qualche Alza sempre Domanda in tema Prezzi Ci troviamo Un cellulare sotto i 2,50 Te la dico direttamente a te Che ce n'hai in mano Gabriele Quanti ce n'hai sotto i 2,50 Questo qua Questo qua è un ottimo smartphone È un ottimo smartphone Soprattutto è bello Cioè Davvero È bello Io non lo dico spesso Degli smartphone Ma è davvero bello Honor 9 Lite Secondo me È un ottimo acquisto Per me Sotto i 250 euro In tutto questo Ha segnato il Napoli E va bene Contro il Gioha Contro il Gioha Un alz Vai Contro il Gioha Ma stai facendo una partitina Di Coppa UEFA Tutto questo Dai Continuiamo Va bene Allora Ancora qualche domanda Perché siamo già Oltre un'ora Aspetta Siamo in Minot 3 Minot 3 Aspetta Cos'è in Minot 3 Minot 3 Che non mi ricordo Che Come Non è ufficiale Venduto ancora in Italia Nel 660 Sì ok Quello ho provato io Ok Fantastico Mi sono trovato Veramente benissimo Peccato Per la banda 20 Ma mi sono trovato Veramente benissimo Ora Non c'ho di pensare Qual era Mi è piaciuto davvero Davvero tanto E tra l'altro Mi è piaciuto quasi di più Del Mi 6 Perché ha una batteria Che dura Dura di più Quindi Insomma Se ti piace Considera solo L'aspetto della banda 20 Uscita nuovo Vai Viu 10 Onestamente Non lo so Tra questo e questo Questo e più 10 Io non mi vedo Ma veramente si somigliano Tanti Ma quanti ce ne sono Ormai Siamo arrivati a 5-6 Che ne avevamo contati Gabriele qualche giorno fa Cioè tu La Honor e Huawei Ormai sono tanti Non voglio svelare Anto Però Non voglio neanche farli cadere Dalla vostra Sinistra Non lo so Vabbè 500 euro 399 229 Secondo me Non vale la pena Spender 500 euro Per il U10 Perché Per quanto sia Un buon telefono Un ottimo telefono È nella stessa line up Un 7X A 200 euro in meno Che fa quasi le stesse cose Tra l'altro Il 7X Fra poco Avrà anche lo sblocco Tramite il riconoscimento Del viso Arriva fra un paio di settimane Questa cosa E poi ripeto Ancora c'è il 9 Lite Che È leggero Va Va una scheggia Sì sì Questo processione I tir in S59 Che Tanti si lamentano Ormai lo usano Anche nelle Ma viene fritta Per fritta La rigida Ma va benissimo Cioè va benissimo Magari non è particolare Cioè è un po' energivoro Quindi comunque Le batterie La batteria Queste 3000 mAh Montata sull'Honor 9 Lite Non rende come Sul Honor 8 Che per esempio Aveva una batteria infinita Comunque ti durava davvero Un giorno e mezzo buono Che comunque Stavo guardando C'è 200 euro di differenza Tra l'Honor 9 Lite E il U10 Anche prendendo gli sconti Quelli che dicevo prima Cioè 200 euro Cioè praticamente È il 50% in più Non è poco Quindi effettivamente Cioè Certo che ha affollato In un modo incredibile Questa fascia Di mercato Ma è un bene o un male Non lo so Io ancora devo capire Se è una cosa positiva Perché comunque È bene o male Le vende O è una cosa negativa Perché mette troppa Confusione negli utenti Nei consumatori Credo che vai Da Mediaport Ne prendi uno E 99% Sono l'oro Quindi Sì Per questo Ormai C'hanno un presidio In quella fascia Secondo me Importante Anche pure al di sotto Con il P8 Lite 2017 Che è vendutissimo Credo Vendutissimo Anche quello Quello Ne vendano Ma davvero Centinaia al giorno Ma siamo a 139 euro Adesso Mi sembra che sia Sui 139 euro Addirittura l'ho visto Sì 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 Siamo su quella fascia lì P8 Sì ora Diciamo 151 139 Qualche giorno fa 139 Esatto 140 euro C'è veramente Oh Niente da dire No ma le vendono Centinaia Al giorno Cioè Ufficialmente Non posso Questo è il P10 Lite Però in Italia Si parla di centinaia Tutti i giorni Quindi figurati Questo è il P Smart Questo è il P Smart Ah il P Smart Il P Smart è nuovo Questo qua 2,29 questo Quanto è No questo è 2,59 2,59 Però per esempio Il P Smart Dietro è molto più brutto Dell'Honor 9 Quindi prende l'Honor 9 Lite Sì cioè Indietro è veramente No c'ha quei fascioni Un po' in retro Ormai sono un po' in retro Sono i fascioni Sono i fascioni Dell'Honor 5X Me ricordo Sono i fascioni L'Honor 5X E Honor 6X Ancora più Honor 5X Ce la va così I reddici Luca Capelli Conviene comprare OnePlus 5T Oggi La risposta mia è Assolutamente sì È un prodotto eccezionale Ma tra circa 3 mesi Scirà il OnePlus 6 Quindi sappilo Costerà uguale Questo andrà via Sarà tolto dal listino Non lo troverai Diciamo più Sul sito ufficiale Però è un prodotto Che Però se si ragiona così Uno non compra mai nulla Perché poi È un prodotto Che va benissimo Quindi ti direi Compralo Assolutamente Io mi ci trovo È un missile Guarda veramente È un hardware Sovra alimentare Cioè È veramente È un hardware Che non riesce A essere sfruttato Perché io c'ho L'828 Ma C'è sta RAM È veramente infinita Tonio Zappone Mi chiede Ho fatto più volte Quando riprenderà Storie Che era Una rubrichetta Bellissima Io Davvero Io ho chiesto a Nick Una cosa semplice Se me la fornisce Si chiama Clonazione Appena Niccolò mi fornisce La clonazione Arriverà con il nuovo Sif Arriverà con il nuovo Sif Anche perché poi Storie Comunque sono 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 anche carini Io li ho divisi Sai in questi giorni Che abbiamo fatto Allora Antonio promette Che la prossima settimana Prima di andare a IF A Bob Ibercon Dispubblicare la sua storia Ah ma storie quelle No io credevo storie Secondo Jobs Parlava delle storie Su Youtube Non credo Le storie nostre Non le funzionali Scusami Loro ho capito Antonio Antonio Paparra Ci scrivi Quali storie Io credo che parlasse Delle storie a video Che erano molto interessanti Però abbiamo coperto Un po' i brand principali Poi In realtà abbiamo fatto Ormai facciamo Dei parliamone Che sono un po' Andiamo a focalizzarci Su Dei argomenti Io per esempio Ho fatto quello sul 5G E mi viene a mente Quello Ma abbiamo fatto diversi Anche su Elon Musk Su Insomma Magic Leap E' una storia nostra Storie nostre Storie nostre Allora manchiamo Io Riccardo E qualcun altro La farò Dai Prima o poi Ma Sì Perché Sono tine No C'è un discorso Di timidezza Ma No No Perché E' più vecchio Allora c'ho tanto Come Scrivermi C'è la Scrivite E' come voi Qualcosa faremo Dai Qualcosa prometto Qualcosa faremo Bene Le vostre Ultime domande Vediamo un po' Sul sito Cosa dicono Ma questo sito Nuovo Quando Indicativamente Ormai Lanciate il sasso Da tempo E' lanciate il sasso Da tempo Perché Sarà un bel Un cambiamento Molto grande E' un cambiamento Tipo quello che avvenne Il 2014 Dal 2013 Il 2014 Cambiò Cambiò veramente tanto Quando arriverà Indicativamente Dopo IFA Quindi diciamo Ottobre Ti dico Se riuscissimo Per qualche ragione Assurda A arrivare Addirittura Ad essere pronti Entro La fine di luglio Verrà lanciato Alla fine di luglio Se non riusciamo A lanciarlo Alla fine di luglio Si salta Ottobre Perché Tra agosto Che c'è un po' Di ferie E settembre Che c'è veramente 5.000 annunci Non abbiamo modo Di metterlo su Perché comunque E' un upgrade Talmente grosso Diciamo che L'attesa sarà Ben Ripagata Bene Per cui ci saranno Insomma Delle Vi do più o meno Il Q4 Insomma Intorno ad ottobre Come data Al momento Più Realistica E' come Tutte le grandi cose I grandi rilasci Eccetera Se tra un mese Mi chiamano Gli sviluppatori E mi dicano Guarda C'è un intoppo Non si riesce a fare Sta cosa qua Ci vuole 3 settimane Invece che una E purtroppo Si slitta Di altre 2 settimane Però Già va veloce Nick Guarda Già va molto veloce Ah Fermo Cavolo Vi do Vi do Informazione Che non sapete Nessuno sa La scoperta Io Prima iniziassimo In live Merlino conferma Negozio fisico Questo Mondo Affari Quindi Ragazzi Infatti ho visto Anche le recensioni Non ce ne sono tanti Online Però sono tutte A parte 2 Positive Effettivamente S7 A 2,79 E lo compro anche Io Stavo dicendo Un'informazione Bellissima Ma che a voi Non frega Nulla Ho appena scoperto Che quest'anno O meglio Cioè nell'arco Di un anno Ci saranno Due Fotokina Quest'anno Fotokina Radocca Ci sarà Fotokina A settembre Noi saremo presenti Poi ci sarà Fotokina Il maggio Successivo A maggio Si ripete Con doppie Fotokina Quindi Anche l'anno prossimo Ci saranno 5 fiere Yuhuu Ah Yuhuu Deve dire Niccolò Ecco Aspetta C'è una Notizia importante E pare ricondizionato L'S7 Ecco Qual è Il L'amboca Egnano Mi sembrava strano C'erano Magagni C'erano Magagni Però 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 Pompeno Dove è scritto Rinondizionato Vediamo un po' Io Io Vado a cena Io devo mangiare Che tenete Cacca da terra Ma adesso Anzi Abbiamo fatto Oh Siamo andando Un'ora e mezza Quasi Ragazzi Live Il Gabbè Poi si stucava No Devo andare a cena E devo andare a raccoppare Il cavo Apple Che mi ha mandato Basta Basta che fai così Fai così Fai così Fai così Fai così verso il connettore Fai così con tutto il filo Verso il connettore Aspetta Però devi farlo attaccato All'aspira Cioè È rosicchiato È anche spaccato Io adesso Non Vai sulla guaina Vai sulla guaina Così Vai sulla guaina Fai così Antonio Ne avrai tipo Cioè C'è un porto Non è stato una cosa Io ho preso il piede C'era là dentro Troppa no Tremendo Tremendo Vabbè dai ragazzi Sono 22 e 20 Aspetta Aspetta Ci sono 309 persone Voglio vedere 309 like in più Dai E poi Ricordiamoci Mettiamo I pollici I pollici Ecco 222 Salite 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 Vai 300 Vi dico una cosa Interessante 400 Vi dico una cosa Interessante No Non fare come Se arrivate a 50.000 like Vi faccio vedere la foto Mutande su Instagram Arriviamo a 1000 Vi dico una cosa Se arriviamo a 10.000 Vi faccio vedere l'S9 Dai Forza Caccia Caccia Intanto ci fa di mezz'ora estivo Perché Vai Ho firmato tutto io Ultimamente Ho firmato tutto io Quindi Tanti Ci arriviamo Abbiamo i lettori pigri Di Tino Pigro Comunque Dai dai Dice questa cosa Fa finta che siamo a 400 Voglio sapere anche io adesso Dai Ma in 10 light Uscirà Oreo Sì Uscirà Date il tempo Quest'era Ma sì Ma c'è Ma sempre Questi uno sia Uno no Ce l'hanno La versione Oreo Sì Sì Arriviamo Tutti ci saranno Giornati Ad Oreo Uscirà Pistacchio Giusto Quale sarà Pistacchio Il prossimo Pistacchio Navolo Chiameranno Sì E poi Ci starebbe Come noi Ci starebbe Comunque Cos'è Ah Che c'è Questo Questo Sotto embargo Il Sagem X2 Fantastico Che Ne cavolo saprì Ma È Sotto embargo No ecco Comunque Io credo Di essere uno dei pochi Ad avere ancora Un 6600 Nuovo Pellicolato E ci farò Tra qualche mese Un video Non adesso Non adesso Portalo Usalo come Come principale A World Congress Vai Vediamo Oh C'è una sim Dentro Al Sagem Oh mamma Che sim Sarà Una Vodafone Incredibile Formato Formato 18 e 9 Che il Gabriele Deve andare a mangiare A dormire A ripostare Allora Allora La settimana prossima Ricordiamo che ci sarà Un altro appuntamento ancora Come detto E lo faremo direttamente Da Da Barcellona Dove ci saranno Tutti quanti Quindi davvero Tutti quanti Noi Allora Addiviamo Facciamo un po' Giusto Un Un piccolo Recappino Addiveremo Il 23 Giusto Quasi tutti Il 23 Che è venerdì prossimo E già Cominciate Ovviamente A seguire il 23 Perché anche se non ci sono appuntamenti Apriremo già Il live Ci sarà già E poi Altra cosa Nicolò In questi giorni Ci siamo sentiti Tutti quanti Abbiamo fatto un po' Il punto della situazione Su l'organizzazione Che ci sarà A Barcellona E abbiamo in mente Nicolò Ha cacciato fuori Delle idee Delle idee Ma non le diciamo Non le diciamo Le diremo Ufficialmente Venerdì prossimo Perché il venerdì sera Non riuscirà Nessuno a capire Però possiamo dire Veramente Preparatevi A vivere Forse un Mobile World Congress O una fiera Diciamo Con noi Come finora Forse Credo che nessuno Sia stato in gravità Popcorn Fate scorte di popcorn E di connessione dati Quindi abbiate connessione dati Perché Veramente Ci sarà Passate dal For For Cosa è questo For Sarà sicuramente Un qualche Qualche locale Ora Ora Su Google Ah no L'evento delle start up Oh guai Invece io già ero Sul locale notturni Ce l'abbiamo in calendario Giusto Questo qua Delle start up Però Non so se Non ti so dire Se effettivamente Riusciamo ad andare Ma Insomma Probabilmente Abbiamo anche Beer Interessante No Come Dice beer Pure interessante In calendario Dovrebbe essere Quando è Aspetta Vabbè C'è 10 giorni 26 No ma ci avevamo Nel calendario Abbiamo messo Un orario Vabbè Comunque Lo riveniamo Venerdì prossimo Il calendario Esatto Lo apriamo Venerdì prossimo Bene Bene Allora Buona sangria a tutti Buon weekend Anche se domani è venerdì Quindi Diciamo Potete già Iniziare A ubriacarvi E Mi raccomando A tutti Se volete fare I simpatici E fare un regalo Ai vostri Amici Con iPhone Potete inviare Questo bellissimo Simbolo Così sputtanare Completamente L'iPhone Dei vostri amici E Appuntamento A domani Ci sarà Domani c'è Un'anteprima Di Davide Forse No? Ce la fa a farla? Ma poi Nel pomeriggio Nel pomeriggio Ok Un'anteprima Obiettiva Molto fotografia Eccentrica La giornata Vi invito a riguardare Insomma Queste offerte Di Amazon E di Ebay Visto che Insomma Sono interessanti E a guardare Il video oggi Di Gabriele Dei nuovi Philips Monitor Eccetera Eccetera Appareggiato Il Napoli Mannaggia L'Empoli? Appareggiato Ma perché L'Empoli In serie A L'Empoli In serie A No è il Napoli Napoli No Napoli Non Napoli Napoli contro chi? E contro una squadra tedesca L'Ipsia Ah ma va Ah Che Vabbè Abbiamo ancora un po' di tempo Io vado a mangiare Allora Friedersen Gustafarte Vai E un saluto Anche a chi Ha rivisto Questo video Fino a qui Ciao Esatto Chi ha resistito L'ha rivisto Passa la vittoria Sempre